Il Tribunale di questa città Il Tribunale di Napoli stabilizza con le sendenze Mascolo, Racca e Forni i primi precari docenti della scuola italiana. Queste tre sendenze sanno il seguito alla sendenza del 26 novembre della Corte di Giustizia, attraverso la quale è stato stabilito il primo limite all'intervento dello Stato in materia di precariato pubblico. Le novità di questa sendenza sono alcune importanti. La prima è che il giudice riconosce per la prima volta la stabilizzazione dei contratti a termine in applicazione dell'articolo 5,4 bis del Decreto Legislativo 368-2001, appunto quello richiamato dalla Corte di Giustizia. Ritiene che per i periodi in cui il docente non ha prestato servizio devono essere riconosciute le differenze stipendiali. Riconosce a sua volta la ricostruzione di carriera a tutti gli effetti giuridici economici del periodo pre-ruolo e quindi il diritto alla ricostruzione di carriera conseguente alla stabilizzazione del posto di ruolo condanna le spese a favore non solo delle parti ma anche delle organizzazioni sindacali che siano costituite, fra cui la federazione Gilda Unams, una vittoria in altri termini su tutti i versanti e su tutti i fronti. Qual è la novità principale di questa sendenza? Il giudice ritiene che l'articolo 5,4 bis vada applicato nella parte in cui era vigente e che per i periodi successivi alla non applicazione di questo articolo vado disapplicate quelle norme che hanno abolito questo articolo, in particolare a riferimento al Decreto-Legge 70-2011. Ritiene altresì che non vi siano ulteriori norme che ostano l'applicazione di questo articolo e quindi oggi le fonti normative ben possono stabilizzare i docenti precari indipendentemente da quello che ci dirà la Corte Costituzionale che non interverrà sulle norme che riguardano il precariato ma anche su eventuali richieste di pregiudiziale costituzionale che comunque potrebbero essere prese in consigliazione ma che il giudice ritiene di non richiamare e di non richiedere, avendo strumenti sufficienti a poter operare indipendentemente dall'intervento della consulta sul punto. I docenti precari che dopo il 26 novembre scorso hanno ottenuto dai tribunali italiani solo il risarcimento del danno, cosa possono fare per ottenere il ruolo? Per coloro che si sono visti riconosce il solo risarcimento del danno nelle cause di primo grado possono o appellarle ovviamente o intraprendere nuove iniziative giudiziarie alla luce delle sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale di Napoli. Grazie mille Avvocato, arrivederci e arrivederci anche da Gilda TV. A presto!